carissimi domani inizia il sacro triduo pasquale che è il fulcro dell'intero anno liturgico aiutati dai sacri riti del giovedì santo del venerdì santo e della solenne veglia pasquale rivivremo il mistero della passione della morte e della risurrezione del signore questi giorni devono risvegliare in noi un più vivo desiderio di aderire a cristo e di seguirlo generosamente consapevoli del fatto che egli ci ha amati sino a dare la sua vita per noi gli eventi che il triduo santo ci ripropone sono la manifestazione sublime di questo amore di dio per ogni uomo per entrare pienamente nel clima di questi giorni santi sarà necessario coglierli nella loro unità giorno dopo giorno il triduo santo lo si comprende solamente se lo si celebra in unità senza separare tra loro venerdì sabato e domenica il triduo è come un'unica grande celebrazione che va dalla messa in cena domini del giovedì santo alla domenica di risurrezione la pasqua di cristo è costituita dalla sua morte e risurrezione cioè della novità di vita che scaturisce dalla morte redentrice del signore gesù e la liturgia di questi tre giorni ci invita a una celebrazione unitaria del triduo santo non possiamo andare nelle nostre chiese non possiamo radunarci per celebrare sacramentalmente la pasqua del signore centro di tutto l'anno liturgico ma possiamo e dobbiamo vivere nella fede nell'ascolto della parola nella comunione spirituale e la preghiera in famiglia in questo tempo così particolare e centrale per il nostro essere cristiani buon sacro triduo laszioni spirituale e44 realtà per il nostro essere cristiani r Όколi